E' allerta meteo in gran parte della regione, in particolare nel metà pontino, dove il maltempo continua a imperversare nell'intera area e la pioggia che sta scendendo copiosa dalla giornata di ieri e i conseguenti accumuli di acqua stanno creando diversi disagi alla circolazione. E' proprio per l'allerta meteorologica diramata dal Dipartimento di Protezione Civile sulla fascia ionica, dove è stato annunciato il bollino rosso, oggi in molti comuni le scuole di ogni genere grado sono rimaste chiuse. L'invito è la massima prudenza, evitando, non potendo esimersi dalla circolazione veicolare e pedonale, sottopassi e strade vicine ai corsi d'acqua. I bacini di Bradano Basento ed Agrisinni sono stati dichiarati in fase di preallarme. Cresce intanto la paura per il timore che questi fiumi possano esondare e che quanto accaduto nel 2011 e nel 2013 possa ripetersi. E' stata inoltre annunciata elevata criticità del rischio idrogeologico. Al momento la situazione sembra essere sotto controllo e non sono state segnalate particolari criticità.